Buonasera a tutti ragazzi, sono usciti gli orari delle prime cinque giornate di campionato della nostra Inter. Allora iniziamo subito con sabato 13 agosto, ore 20.45, allo stadio Via del Mare Lecce-Inter. Sabato 20 agosto, ore 20.45, si giocherà Inter Spezia, la prima con il suo pubblico a San Silo per la nostra Inter. Venerdì 26.08, ore 20.45, a Roma si giocherà Lazio-Inter. Mercoledì 30 agosto, chiedoveni a martedì 30 agosto, ore 20.45, Inter Cremonese. Sabato 3 settembre, ore 18, udite udite, il derby della Madonnina. Milan-Inter, questa volta sarà il Milan a giocare in casa. Neanche stavolta giocheremo di domenica, quindi per le prime cinque giornate la domenica ce la dimentichiamo, amici miei. Ditemi voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Intanto vi abbraccio tutti come se fossi lì, vi bacio fortissimo e ricordatevi sempre che la vostra Lucri vi vuole bene e sempre, sempre, sempre. Forza Inter!